Buonasera a tutti, come vedete la mia presentazione parlerà del rilievo digitale del Catasto A di Cortesgarderia, cioè vi spiegherò come siamo passati dal rilievo digitale alla stampa tridimensionale. Prima di iniziare mi presento, mi chiamo Luca Bezzi, lavoro per una ditta di archeologia che si chiama Arctim e che è specializzata in vari settori dall'archeologia da campo, il normale scavo archeologico, ai settori un po' più particolari come l'archeologia estrema, l'archeorobotica, le missioni all'estero, le ricostruzioni craniofacciali e l'archeologia forense e l'archeologia digitale. Come dicevo la presentazione riguarderà il Catasto A rinvenuto negli scavi archeologici di Cortesgarderia a Verona e vi spiegherò come siamo passati dall'originale alla copia. L'argomento in pratica tratterà di una branca dell'archeologia piuttosto specifica che è chiamata archeologia digitale. Per questo motivo ho diviso la presentazione in tre parti. Una prima parte in cui farò una presentazione riguardo, una introduzione riguardo all'archeologia digitale. Una seconda parte in cui parlerò di structure from motion e fisica della luce. C'è solo un accenno, in realtà cercherò di rendere gli argomenti un po' leggeri perché sono molto tecnici e questa parte riguarderà la tecnica che abbiamo deciso di usare per il rilievo 3D e spiegherò anche il perché. E un'ultima parte sulla stampa 3D, anche qui una panoramica sulle diverse tecnologie che ci sono a disposizione e sul perché ne abbiamo scelta una in particolare. Come dicevo, l'archeologia digitale è una branca specifica dell'archeologia, praticamente si tratta del supporto informatico a tutta la disciplina archeologica ed è semplicemente l'evoluzione di quella che negli anni 70 veniva chiamata l'archeologia computazionale, cioè il primo supporto, soprattutto statistico, con qualche rudimentale analisi territoriale alla disciplina archeologica da parte delle scienze informatiche. Normalmente il punto d'incontro di tutto ciò che si rifà all'archeologia digitale è un software territoriale chiamato GIS e come vedete si può utilizzare dalle prospezioni geofisiche, cioè dai vari metodi che utilizziamo per cercare di capire cosa c'è nel sottosuolo senza scavare, all'archeantropologia, cioè resti umani, alla zooarcheologia, resti di animali, epigrafia, come in questo caso, analisi architettoniche, carpologia o in generale l'archeobotanica, archeologia aerea e la georcheologia, questo solo per fare alcuni esempi. Vi dico subito che una particolarità della nostra ditta è quella di utilizzare solo software libero e open source, i cosiddetti flows, perché? Perché quando si acquista un software normalmente se il software codice è chiuso, come vedete, vi viene fornito solo il codice binario, cioè questa sequenza di 0 e 1 che voi non potete comprendere, ma la vostra macchina sì. Quello che cerchiamo di avere noi è anche il codice sorgente, cioè come è stato scritto il software, in questo modo noi possiamo modificarlo e adattarlo alle nostre specifiche necessità di archeologi, perché come potete immaginare i software di mercato non vengono prodotti specificatamente per gli archeologi, utilizzando software open source possiamo migliorare i nostri strumenti, il nostro software. Partendo da questo approccio, con Arteam abbiamo anche cominciato a lavorare sull'hardware e costruire hardware open source. Il genere si tratta di droni, ma come vedrete anche in questa presentazione ci sono altre macchine utili nell'archeologia e la cosiddetta archeorobotica. Vi parlo anche principalmente del progetto per cui siamo stati ingaggiati dall'associazione Archeonauti, perché è un tipico esempio di archeologia digitale. Da una parte abbiamo il sito di Villa di Valdonega e dall'altro il sito di Cortesgarteria. In entrambi i casi si cercava di valorizzare questi siti. Qui vedete una panoramica di immagini di Valdonega, la villa romana, e dall'altra Cortesgarteria, cioè il criptoportico del vecchio Capitolium. Ovviamente questi due siti avevano problematiche abbastanza diverse. Per esempio nella villa romana di Valdonega la problematica principale era l'accessibilità ad alcune aree. Come vedete qui ci sono delle aree con pavimentazione a mosaico, quindi delicata, dove però le pareti sono affrescate con dettagli molto interessanti ed è un peccato che i turisti non possano avvicinarsi per vedere gli affreschi. Dall'altra parte bisogna anche aiutare durante la fruizione turistica la comprensione del sito perché ovviamente per i non addetti ai lavori può essere un po' complicato riuscire a capire gli ambienti e a ricostruire, almeno nella propria immaginazione, il sito come era una volta. Quindi per risolvere queste problematiche abbiamo sviluppato una app che gira su dei tablet. Come vedete da una parte abbiamo fatto il modello tridimensionale dell'ambiente affrescato con degli hotspot cliccabili che sono principalmente i dettagli molto interessanti degli affreschi per cui uno stando davanti all'area pur non potendo entrare può vedere cosa c'è sui muri, praticamente cosa c'è affrescato sui muri. Dall'altra parte abbiamo fatto un'applicazione più immersiva di realtà virtuale che può essere fruita con occhialini oppure semplicemente col tablet in cui c'è la ricostruzione del modello della villa di Valdonega. Per quanto riguarda corta sgarzeria la problematica invece era completamente diversa e riguardava più che altro l'unicità dei reperti. Cioè il catasto A e il catasto B sono reperti unici per cui non sono accessibili al pubblico ma sono custoditi in cassaforte in soprintendenza. Come vi dicevo la soluzione per noi è stata quella di passare dall'originale attraverso una copia digitale fino a un modello stampato in 3D, la replica tridimensionale che abbiamo prodotto. Per fare questo ovviamente trattandosi di un progetto di rilievo 3D il primo passaggio in qualsiasi progetto archeologico è quello della valutazione della tolleranza archeologica. La tolleranza archeologica è praticamente il rapporto tra precisione e accuratezza, due termini tecnici che derivano dalla teoria degli errori, che si vuole raggiungere in rapporto soprattutto a determinate specifiche archeologiche. Quindi di solito viene valutata da un archeologo e non da un tecnico. Due parole su precisione e accuratezza. Diciamo che la precisione è il grado di convergenza dei dati rispetto al valore medio misurato e l'accuratezza è il grado di corrispondenza del dato teorico rispetto a quello reale. Quindi possiamo avere un rilievo che è poco curato e poco preciso, vedete che nello schema qui sotto i punti sono tutti lontani dal centro, oppure possiamo avere un rilievo molto accurato e poco preciso, quindi con punti abbastanza vicino al centro ma tutti a distanze diverse. Possiamo avere una bassa accuratezza, quindi siamo abbastanza lontani dal centro ma un'elevata precisione, i punti non si distanziano tra di loro, oppure avere un'elevata accuratezza e un'elevata precisione. Come vi dicevo, la tolleranza archeologica prende in esame varie specifiche, per esempio le specifiche del progetto, cioè le tempiste di cantiere, le risorse a disposizione, la scala territoriale, i fattori ambientali, cioè le condizioni logistiche, la sicurezza sul posto di lavoro, la possibilità di replicare rilievo o meno, ma soprattutto le peculiarità archeologiche, cioè la cronologia delle evidenze e il loro potenziale informativo. Come vi dicevo, è fondamentale che la tolleranza archeologica sia valutata dall'archeologo. Parlando del catasto A, della tavoletta bronze del catasto A, vi dico subito che siamo su un oggetto piuttosto difficile, a limite, con valori limite, per esempio è un oggetto in bronzo e metallo ed è stato anche restaurato, quindi è una patina che tende a riflettere la luce. Come vedete, questa semplice immagine, con la luce che proviene da in basso a destra, abbiamo tutta un'area, lo vedremo meglio dopo, interessata da una luce riflessa e non solamente dalla luce diffusa. Inoltre, tra le specifiche del reperto, c'è il fatto che i dettagli che vogliamo salvare, che vogliamo replicare, sono submillimetrici, perché la cosa più interessante, come vedete anche nei rilievi di chi ha studiato il reperto prima di noi, ovviamente, sono le incisioni del catasto e quindi si tratta di incisioni veramente minime, submillimetriche, pensate che la tavoletta è spessa a 4 mm, le incisioni sono ovviamente molto inferiori. Questo ci porta, dunque, a scegliere un metodo di rilievo che sia adeguato a quello che vogliamo fare. Come vi ho detto, abbiamo scelto un metodo che viene chiamato Structure from Motion e Multiple View Stereo Vision. Essenzialmente è un rilievo fotografico, quindi ci permette di fare un rilievo senza un contatto diretto con l'oggetto, quindi senza il rischio di rovinarlo, e si basa sullo scatto di una serie di foto. Normalmente si utilizzano dei software che hanno una serie di passaggi da fare. Un primo software di solito analizza le varie foto, trova i punti in comune tra le foto, riesce a capire quello che tecnicamente è chiamato l'orientamento esterno della camera, cioè il punto di scatto e l'angolazione della foto, della camera. Questo primo software di solito riesce anche a recuperare una nuvola di punti sparsa in 3D, ma è il secondo software che, recuperando i parametri di orientamento esterno della camera, fa una nuvola molto più densa. E come vedete da questi risultati, i dettagli di solito sono più che sufficienti per un buon rilievo tridimensionale. Giusto due parole sul principio, perché non è proprio fotogrammetria classica, dove la profondità di campo viene ottenuta praticamente grazie all'effetto di parallasse, molto simile alla vista umana, cioè noi vediamo in 3D perché stiamo osservando lo stesso oggetto da due punti contemporaneamente che sono leggermente diversi uno dall'altro come posizione, quindi i nostri due occhi, che distano tendenzialmente sui 6 cm, stanno osservando nello stesso momento un oggetto e abbiamo la percezione del 3D. La Structure from Motion, anche se ormai i sistemi sono misti, ricostruisce normalmente la profondità di campo analizzando i punti in comune tra le varie foto e seguendo il principio per cui i punti più vicini al punto di osservazione si muoveranno di più rispetto ai punti più lontani. Come vedete in questo vecchio lavoro, il rilievo del mausoleo di Teodorico, i punti più vicini sembrano muoversi di più e i punti più lontani sembrano muoversi di meno. È un po' il principio per cui quando andiamo in macchina e osserviamo dal finestrino le montagne ci sembrano ferme, mentre i cartelli stradali sfrecciano a velocità sostenuta. In realtà siamo noi che ci muoviamo alla stessa velocità, ma questa illusione ottica ci fa sembrare che le cose che stiamo osservando si muovano a velocità diverse. Quindi in parole povere, come dicevo prima, da una serie di foto scattate in maniera diversa possiamo ricostruire il modello tridimensionale. Qui vedete un esempio di un rilievo che abbiamo effettuato su un relitto, il subacqueo. Come vedete abbiamo ottenuto il 3D e dall'altra parte l'ortofoto c'è una fotografia corretta sulle tre dimensioni e sulla quale abbiamo ottenuto anche il disegno archeologico. Come vedete è una tecnica molto versatile, l'abbiamo portata sott'acqua, l'abbiamo portata in aria sui droni e soprattutto può essere usato con un approccio multiscalare, quindi da grandi territori a piccoli oggetti. Vedete che lo usiamo molto nell'archeantropologia, quindi sui resti umani. Qual è il vantaggio di utilizzare software open source? Come dicevo prima, uno dei vantaggi è che possiamo ogni volta valutando il progetto utilizzare il software che riteniamo migliore per il progetto stesso. Per esempio se dovessimo fare un progetto di archeologia aerea tramite un drone autocostruito useremo molto probabilmente Micmac che in questo campo è uno dei software migliori. Per un normale rilievo sul cantiere durante uno scavo va benissimo utilizzare open MWG. Su alcuni progetti di archeantropologia come in questo caso vedete la mummia di Santa Caterina da Genova volendo ottenere dei dettagli molto particolarizzati abbiamo usato ortogon blender. In situazioni un po' più estreme soprattutto dove abbiamo bisogno di una buona resa del colore utilizziamo meshroom come per esempio sott'acqua ma come vedete anche qui in Spello Archeologia questa è una grotta con una colonna fratturata durante un terremoto storico. Un'altra cosa importante è utilizzare il software a codice aperto è che riusciamo sempre a mantenere il controllo umano su tutti i passaggi del software per cui per esempio riusciamo a scegliere anche gli algoritmi che vanno usati passo dopo passo. Usando il software a codice chiuso non c'è questo controllo umano sul computer non è mai una buona idea delegare tutto il lavoro al computer il nostro cervello è ancora molto capace in certe analisi soprattutto qualitative e sicuramente è molto più potente di quello di un computer. Per esempio in questo caso vedete OpenAVG noi possiamo scegliere l'algoritmo che fa feature detection cioè l'algoritmo che riesce a tracciare i punti in comune tra le varie foto vedete a sinistra l'algoritmo case e a destra l'algoritmo shift e il computer sta cercando di tracciare in punti comune tra le foto e come vedete un algoritmo è molto più potente molto più accurato e preciso l'altro è però più veloce quindi di volta in volta si può valutare quale algoritmo scegliere. Ma uno dei motivi principali per cui abbiamo utilizzato la tecnica della Structural From Motion è che una delle tecniche forse l'unica che ci permette di risolvere i problemi legati alla luce normalmente quando facciamo un rilievo tridimensionale abbiamo due tipi di luce cioè la luce ambientale e la luce riflessa entrambe questa luce dà delle problematiche diverse per esempio la luce ambientale può diventare un problema quando facciamo rilievi subacquei come vedete qui la luce del relitto tende all'azzurro perché man mano che andiamo sott'acqua perdiamo i colori il rosso diventa arancione già sui 3 metri poi man mano si perde è anche uno dei primi colori che si perde ma con la Structural From Motion noi possiamo trattare preprocessare tutte le foto e con un altro software open source ridare i colori naturali per poi effettuare il modello 3D un po' più complicato è il discorso della luce riflessa dagli oggetti nel senso che nella maggior parte degli oggetti riusciamo a fare un rilievo senza problemi ma ci sono degli oggetti molto problematici in natura normalmente sono tutti oggetti legati a una riflessione speculare della luce normalmente i liquidi il vetro che da questo punto di vista è un po' come un liquido solidificato ma soprattutto i metalli per cui tutti i reperti in metallo come appunto il catastro A per cui oltre ad avere una luce diffusa c'è una luce che si irradia in tutte le direzioni come come qualsiasi oggetto avrà anche una luce riflessa specularmente c'è una luce che esce con un angolo retto rispetto alla alla luce incidente e questa dà molti problemi nel rilievo nel rilievo tridimensionale quindi in alcuni casi dovremo scomporre la luce e utilizzare solo un tipo di luce vedete in questa immagine la luce riflessa e la luce diffusa in questa immagine solo la luce scusate la luce speculare e la luce diffusa in questa immagine solo la luce speculare che è quella che noi andremo a togliere e in quest'altra immagine solo la luce diffusa quindi nonostante l'oggetto sia in oro vedete che dalle immagini con solo la luce diffusa è possibile ottenere un modello tridimensionale fortunatamente per la tavoletta del catasto A siamo riusciti ad effettuare un rilievo contenendo e limitando la luce ambientale per cui non abbiamo avuto problemi eccessivi problemi di luce riflessione speculare e siamo riusciti a effettuare il rilievo senza l'utilizzo di filtri polarizzatori direttamente in sovrintendenza allestendo di fatto un piccolo set fotografico se non ci fossimo riusciti avremmo dovuto utilizzare filtri polarizzatori praticamente triplicando il tempo sia di raccolta dati che poi di processamento dei dati e questo è un modello tridimensionale del rilievo che abbiamo effettuato si tratta di un modello molto molto leggero per caricarlo sulla presentazione ma come vedete i dettagli delle incisioni ci sono tutti ovviamente il modello che abbiamo stampato è un modello anche più accurato finisco con un accenno alla stampa tridimensionale perché poi la tecnica finale che abbiamo utilizzato per materializzare il nostro modello tridimensionale digitale ed è quello con cui abbiamo effettuato la riproduzione che voi vedete qui e che potete adesso osservare durante la visita del sito di corte e sgarterie vedete subito questa stampa tridimensionale viene effettuata dalla macchina che abbiamo costruito ve ne parlerò dopo in base alla nostra esperienza sulla stampa 3D applicata ai beni culturali e all'archeologia ovviamente l'abbiamo utilizzato effettivamente molte volte soprattutto nel campo della museologia e museografia quindi della musealizzazione dei reperti come vedete qui per esempio siamo andati a stampare in 3D dei crani di Homo georgicus anche in questo caso si trattava di reperti unici avevamo bisogno di allestire a Padova per conto dell'Università una mostra sull'evoluzione umana in realtà sul volto e quindi abbiamo effettuato una spedizione in Georgia grazie alla disponibilità del professor Lorchi Panise e ci ha dato accesso a tutti e cinque crani dell'Homo georgicus li abbiamo rilevati in 3D e in Italia li abbiamo stampati e quindi musealizzati ovviamente un altro vantaggio utilizzare la stampa 3D è per esempio l'accessibilità sempre a livello museale per persone ipovedenti come vedete si può stampare anche qui un pezzo unico come il bambino Itaung aumentare la fruibilità di una mostra anche a persone ipovedenti che possono toccare l'oggetto e rendersi conto di come sia esso fatto un altro caso in cui si può utilizzare la stampa 3D è la ricerca pura come in questo caso si tratta di uno studio che abbiamo effettuato su una mummia tolemaica conservata a Padova in questo caso la TAC aveva evidenziato l'esistenza di un corpo estraneo all'interno della mummia che siamo riusciti a isolare vedete qui ed infine a stampare in 3D cioè praticamente a estrarlo dalla mummia senza doverlo dover aprire in nessun modo la mummia e quindi abbiamo stampato questo anellino metallico senza bisogno di effettuare operazioni più invasive come venivano fatti negli studi di mummiologia degli anni 80 in cui veniva effettuato un taglio a Y sulla mummia proprio tipo autopsia un altro caso in cui abbiamo utilizzato molto la stampa 3D è quella che riguarda la ricostruzione archeologica forense quella ricostruzione facciale vedete in questo caso la ricostruzione del volto di Sant'Antonio che abbiamo stampato in 3D e a destra il volto di San Valentino quello che vorrei scusate su cui vorrei puntare l'attenzione è che si tratta le immagini che avete visto sono tutte relative a due tecniche completamente diverse da una parte la stampa estrusione come avete visto le repliche dei crani di Homo Georgicus e dall'altra stampa in polvere multicolor per esempio a sinistra vedete il modello stampante 3D che abbiamo costruito si chiama Falla 3D è un modello open hardware e abbiamo utilizzato spesso ma dall'altra parte è una macchina che ci permette invece di stampare su una polvere e iniettare il colore direttamente nella polvere in modo da ottenere un effetto fotorealistico si tratta di due tipi di stampe molto diverse vedete quella estrusione praticamente si basa sul principio che la macchina può muovere un braccio con un zello sulle assi X e Y mentre il piano si può alzare e abbassare sulla Z per cui man mano viene sciolto del materiale plastico viene depositato si risolidifica e quindi abbassandosi il piatto della macchina si può costruire l'oggetto in 3D diverso è il caso della stampa in polvere multicolor abbiamo dei vasconi in cui abbiamo questa polvere un braccio passa e scalda la polvere che si solidifica solo dove è scaldata e nello stesso momento gli viene iniettato il colore per cui alla fine abbiamo anche in questo caso la stampa tridimensionale ma con un colore fotorealistico questo infine è il modello 3D del catastro A di cortesgarderia così come lo abbiamo ottenuto dalla stampa 3D multicolor come vedete non è perfetto perché si possono vedere delle piccole aree in cui si notano le estrusioni della stampa ma è molto molto realistico d'altra parte non si tratta di un calco di qualità museale che viene effettuato di solito con delle resine ma è un calco da dare in mano ai turisti per far vedere durante la la visita del sito come vedete nell'immagine qui sotto oppure può essere musealizzato nel sito stesso come vedete in quest'altra immagine ad ogni modo si è trattato di una stampa tridimensionale per la valorizzazione di un turistica del sito di cortesgarderia e penso che il risultato abbia funzionato io termino qui e vi ringrazio per l'attenzione